Mister Fioravanti, sostituto di Adolfo Cichella, dimissionario poco tempo fa. Le ultime quattro giornate la prima inizia davvero male, con i play-out che si iniziano ad allontanare diventa sempre più dura, mister. Sì, purtroppo abbiamo cercato di fare la partita giocando nel miglior modo possibile. Abbiamo creato, abbiamo avuto occasione per segnare, non abbiamo fatto gol. Purtroppo nel calcio quando non fai gol, prendi un tiro, prendi il gol e perdi la partita. Mi dispiace perché i ragazzi ci hanno messo l'anima. Devo fare i complimenti a loro perché hanno giocato, secondo me, una bella partita. Purtroppo, ripeto, se non si fa gol è dura. Fino all'89, fino al gol di Marchionne, la gara sembrava indirizzata verso un altro risultato. Cosa non è andato oltre al gol, non messo a segno? Ripeto, non facciamo gol. Prima del gol subito abbiamo avuto due occasioni limpide, non le abbiamo sfruttate. Abbiamo avuto quella splendida sforbiciata di Stefano Cichella. Purtroppo la traversa ci ha negato il gol e poi abbiamo ripreso la ripartenza e abbiamo preso il gol. La partita è questa. Noi ci abbiamo messo l'anima, però se non si fa gol, ripeto, la partita non si vince. Sì, sicuramente sapevamo di incontrare una squadra difficile da affrontare che era l'ultima spiaggia col coltello delle denti. Credo che abbiamo fatto la nostra dignitosa partita, però queste sono partite dove ha poco senso commentare come sono andate. Conta, purtroppo, solo il risultato. Avevamo tante assenze e devo solo fare complimenti ai ragazzi perché affrontare poi queste partite con tanti under, avendo pochi cambi e dove arrivi comunque risicato, c'è solo da fare complimenti a chi c'era. Detto questo saranno tutte così le partite. Noi sappiamo il percorso che dobbiamo fare, sappiamo i punti che abbiamo e sappiamo che ancora ci mancano tanti punti. Il campionato dimostra, dopo la giornata di oggi, che è ancora tutto aperto e c'è ancora speranza per tutti, dove tutti veramente possono fare il risultato contro chiunque guarda ce l'hanno folgore. Quindi questo lascia sempre tutto aperto. Noi questa vittoria ci dà entusiasmo, ci dà gioia, ma già dal pullman iniziamo a pensare alla prossima perché sappiamo che dobbiamo dare valore alla vittoria realizzata oggi.